Ciao a tutti, grazie a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in un video di Fortnite. Questa ragazzi è l'inizio di una serie molto particolare, nel senso col passare dei mesi ho parecchio lasciato andare Fortnite per vari motivi. Ho deciso di riprenderlo oggi, voglio portare dunque, voglio documentare il mio cambiamento che avrò in questi mesi. Visto che comunque ho intenzione di giocarci parecchio nel mio tempo libero, ho deciso di iniziare a documentarlo. Quindi quello che vedete oggi ragazzi è la mia base di partenza, una base devo essere sincero molto bassa. Ditevi un po' nei commenti dopo aver visto il video se avete dei consigli, dei chiarimenti, di qualsiasi cosa è ben accettato ragazzi appunto nei commenti. Qualsiasi consiglio va bene per migliorare in questo gioco perché so che sicuramente molti di voi saranno molto più forti di me. Quindi possiamo dare via a questa serie di Fortnite che possiamo dire da noob a pro, una roba del genere che si svolgerà nel corso dei mesi. Spero che questa serie vi piaccia, oggi siamo in compagnia di Leo, quindi in duo, vi lascio al video. Buona visione. Corso? Sai che c'è terroli troppe volte e c'è molto troppe volte, però ok dai. È meglio quella silenziata o mi tragietta quella... Ok sono qua sotto, quella è la silenziata. Perché? Visto qua sotto... Perché è meglio quella silenziata? È più precisa, l'altra è un inculare stesso danno praticamente. Ovest su dovest dovrebbero essere. Eccoli infatti, guarda lì dietro il distributore. Ok. Funco è, flanco io. Ho detto blu il dato. La macchina. E allora? Oh Cristo. Sì, qua qua, sono qua. 17, 17. Occhio ne è uno lì dietro. Cerca di detreggiare. Ok, quello che ti pusciava l'ho ucciso. È ucciso? Uno, c'è solo l'altro che... Andati, morti entrambi. Morti entrambi? Mamma mia. Sei un fire. Dimmi come l'aglio. Oh, c'è sempre sopra, dove ero io. Eh, occhio che qua ci incurano se fattimo da qua. Pusciamoli, vieni, seguimi. Da sinistra li prendiamo. Da sinistra, vabbè, sali da lì allora. Fai quel cazzo che vuoi. Uno è accettato. Ok. Viti bianchi. Sono venuto a scappando, sta scappando adesso su destra. Ah, sono un coglione. Ok, sto scappando. Perfetto, grazie. Oh, Leo. Vabbè, quando vuoi... Ma dovrei fare anche il te, dimmelo. Beh, sì, infatti. No, tranquillo. Oh, si sparano. Da dove? Da, da, da qua, da qua, da me. Dai, ma quanto cazzo salta sto tipo? Arrivò. Sono morto, è l'interno in faccia. Ah. C'è una, un'interdietta silenzia da qua, se vuoi. Ok. Push, 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 push all'ovest. Au, au, au. Ok, l'ho fatto 60 danno. Lago. 30, 30. 40 di headshot, morto. Ah, alzi, da su destra. L'ho visti? Ok, devo curarmi. Morto. Non c'è, non cado. Due stanno arrivando da su destra. 16? È half-life, non è? 46. Morto, morto, morto. Nice. Ho fatto un bordello di colpi in questo fight. Se mi lasci uno e due a lutare. E ti ho lasciato il tuo. Occhio. Sono a North, ma iniziano la polizia per fightarli. Questi stanno pushando, stanno pushando questi. Andiamocene via, andiamocene via. Stanno pushando sopra, pushando sopra, pushando sopra, Leo. Colpito. Uno albero colpito pure qua. Ho vinto bianco. Knockato uno. Ok, arrivo. Pucciando da verso il lago. Sto pushando. Non cando. Oh, Cristo, ho fatto malissimo. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Ok. Cazzo. Sto arrivando. Sto mi sto curando, Giulio. Mi sto curando, eh. Sto per me sopra. Hit bianco, mi pare. No, è qua, 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 qua. Hit blu. Leo. Lei non sapevo dove era. Vabbè, dai. Ok, ti dicevo, sono due nel negozio di sinistra. Sono mezzi barricati. Sì. Uno knockato. Cioè, uno, ho fatto un bot di danno. Hai fatto spaventare? Gli ho fatto headshot, no, non è headshot, ho fatto 75 più 10. Ah, quale? Ero quello dentro. No, l'altro, l'altro. Non quello che sta pushando. C'è uno che sta pushando da sinistra, eh. Quello nero sta pushando. È passato anche il tipo, mi stai passato, eh. Non so, non vorrei dire che è arrivata. Sì, sta passando, il tipo è sotto qua, il tipo, eh. Il tipo è sotto, sotto là. Eh, sei da sotto. Knockato, 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 knockato. Dove sono? Non lo so, il nipone è knockato là, agli alberi. Uno è low e l'altro è knockato, cioè, headshot. Sei tu con le voce di smoke? Sì. Entrambi? Marti? Sì. Stai raggando a merda, stai raggando, Gio. No. Dai, non me ne ero accorto. Oh, Gio, c'è gente, c'è gente. Dov'è? Da me. È qua, qua, qua. È hit bianco, praticamente. Eh, Pietro. Sono troppo basso, dici? No, sei giusto, sei giusto. No, arrivo, atterro praticamente sulla porta. Mi atterro sulla cuccia, della mia. No, 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 io cuccia. Mia. Oh, c'era un tommingan blu all'altra stanza, che non hai visto. Laggiù ci sono un bel po' di airdrop. Non sarebbe malattarci. Non ti copio del cecchino, hai? Non sarebbe malattare lì al punto rosso, ci sono due airdrop. Se voglio andarci, ci andiamo ora, dobbiamo andarci. Peronze, dai, qua. Ci sono costruzioni, io. Eccolo qua, eccolo qua. C'è gente qui, tra lì qua. Non è vero. Ah, guardali lì. Dove? Ah, al nord. L'ho visto, l'ho visto. Allora, stanno pushando. Non lo vedo, ma è arrivato a spanno il tipo. Una cecchina e una non mi pusha. Ok, allora. Arrigo leo. Ok, 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 che gira. Ah, ho fatto... Eh, lo, è un one hit, è un one hit. Di troppo, qua è un one hit. Dente, vabbè. Di troppo, qua è un uno hit. Grazie a tutti.